buenda goria è incinta nonostante le enormi difficoltà per riuscire a concepire è successo un miracolo l'annuncio è arrivato nel pomeriggio di lunedì 22 gennaio in tv da caterina balivo a la volta buona su rai 2 ospite proprio insieme al compagno mirko gancitano dello show buenda ha annunciato che le nozze si sono concretizzate la data per il sì e il prossimo 16 maggio a questo punto la balivo che ovviamente sapeva già ha affermato al matrimonio so che non sarete solo voi due c'è qualcosa che tutti devono sapere gli occhi di guenda 35 anni diventano subito lucidi così come quelli del compagno 33 n scoppia a piangere con la voce rotta annuncia sono emozionata perché è stato un traguardo che per me è un miracolo oggi non siamo solo in due ma siamo in tre è in arrivo un figlio o una figlia sono emozionata perché mi era stato detto che non potevo avere figli naturalmente perché sono tre anni che ci proviamo era il mio grande sogno e desiderio perché l'ultima gravidanza che ho avuto è stata una tragedia nel senso che è stata extrauterina che ha messo in pericolo la mia vita e sono viva per miracolo dopo quell'episodio è stata un'emozione poter essere ancora qui e avevo iniziato anche a non pensarci più ha aggiunto la gravidanza ha superato il terzo mese io ora sono alla fine del terzo mese inizio del quarto ci tengo a dare un messaggio di speranza a tante donne che come me hanno difficoltà io soffro di endometriosi e successo che nel mese di ottobre ci siamo incontrati una volta io e mirko mi avevano detto che non avrei potuto avere figli se non con la fecondazione assistita invece è capitato ha concluso grazie a tutti grazie a tutti